Siete sui canali di Lenti Car Automobili per tutti Fiat Panda Van, autocarro due posti, 55 kilowatt, 75 cavalli immatricolata a giugno 2014, ha percorso 58.000 chilometri unico proprietario, aziendale, IVA esposta e completamente scaricabile fiscalmente Come vedete la selleria è in ottime condizioni, non ha segni di usura, non è sgualcita Ed ecco il chilometraggio certificato originale e garantito Buono l'equipaggiamento, l'impianto radio, naturalmente l'aria condizionata il servo sterzo con tasto siti e poi vetri elettrici, chiusura centralizzata con telecomando Andiamo a vedere ora il vano di carico, come vedete è molto ampio e ben tenuto Le portiere laterali naturalmente si aprono e in fondo c'è la sua griglia divisoria Pesi, misure e portata li trovate sul nostro sito lenticar.it Se volete altre informazioni alzate il telefono e chiamateci immediatamente o mandateci un whatsapp, grazie per l'attenzione, ciao!